Ho avuto la fortuna in gioventù per motivi familiari, perché le fortune di solito sono sempre quelle per nascita, di poter vivere alcuni anni in California. Da romano è stata e da l'italiano da ventenne negli anni 90, ovviamente è stata una illuminazione vedere come si muoveva il futuro, col poter godere di una macchina del tempo. Dopodiché ho fatto una scelta consapevole che è stata quella di tornare in Italia, ma come dicono gli americani, avendo preso il bug, avendo preso il virus dell'innovazione, dell'imprendioteria innovativa. E quindi decidendo, tornando in Italia, di applicare tutto quello che avevo visto là, ma rendendomi conto di quanto fosse molto diversa l'Italia di quegli anni dal punto di vista dell'accoglienza dell'innovazione, dalla visione dell'imprenditoria, del supporto, del sostegno, di tutto quello che era il sistema intorno all'imprenditoria, il sistema paese, avevo cominciato anche ad impegnarmi immediatamente nel cercare, da una parte, di fare i miei interessi come imprenditore innovativo, dall'altra nel cercare di spingere con molti altri a cambiare il sistema. Perché tutto questo? Perché in realtà cambiare il sistema è un modo per generare un impatto positivo, oltre che per potersi facilitare il percorso individualmente. Quindi io sicuramente cerco anche di divulgare in momenti come questo perché sia importante fare start-up, perché fare start-up sicuramente migliora anche a me stesso il terreno di gioco e il modo in cui io posso fare l'imprenditore innovativo nella tecnologia, rimanendo basato in Italia anziché migrare come molti altri fanno. Ma fare start-up ha un impatto pazzesco che molti non comprendono, molti sottovalutano. Tutti quelli che si chiedono ma perché mi devo interessare delle start-up, del venture capital? Di fatto sono delle avventure di individui che decidono di rischiare, di vivere di vivere sul filo del rasoio e sono cose in cui investono soggetti che tendono a rischiare molti soldi. Che vantaggio ne ho? Perché mi dovrebbe interessare? Beh, allora per fare questo vi porto indietro di qualche centinaio di anni a quella che è stata riconosciuta come effettivamente la prima start-up innovativa della storia dell'umanità e cioè l'avventura di Cristoforo Colombo che si fece finanziare dal primo venture capitalist della storia che era la regina Isabella Dragona per fare qualche cosa di completamente nuovo fino a quel momento. Cioè tentare di raggiungere le Indie che lui intendeva fossero il Katai, la Cina dell'epoca, il Chipango, il Giappone dell'epoca, per una rotta completamente nuova per conseguire un vantaggio enorme. Perché? Perché all'epoca la Cina con cui si commerciava veniva raggiunta attraverso la Via della Seta, Via Terra, quindi c'erano dei costi e dei tempi di spostamento per commerciare con la Cina che erano incredibili. Beh, l'innovazione di Cristoforo Colombo non generò valore solo per se stesso e per la regina Isabella Dragona. In realtà cambiò le sorti del mondo, della civiltà occidentale fino ad oggi. Perché? Perché la scoperta delle Americhe, la colonizzazione delle Americhe poi di fatto ha creato tutte le premesse per la società occidentale in cui viviamo, per le democrazie in cui viviamo e anche poi direttamente per la Spagna, per la ricchezza di cui ha goduto la Spagna come stato coloniale per diversi secoli. Quindi sostenere le start-up è qualche cosa di profondamente rilevante per ogni società ed è un qualche cosa che è profondamente sottovalutato, banalizzato e in alcuni paesi in realtà addirittura svilito, sminuito, come se fosse un gioco per ragazzi. E questo purtroppo è spesso e volentieri il caso dell'Italia dove c'è una cultura di impresa che è anche molto, molto, molto differente, direi in certi casi avversa rispetto a quello che è il modello delle start-up. Le start-up ovviamente facendo un salto di 500 anni avanti ci insegnano che in realtà prosperano, sì, le start-up prosperano quindi, come ho detto prima, quando si sviluppano all'interno di un ecosistema favorevole, un luogo in cui vadano ad interagire con tanti altri organismi, con l'ambiente circostante, traendone valore, traendone energia e quindi, diciamo, respirando un ambiente che gli dia la spinta iniziale e poi le spinte successive per riuscire ad andare a successo, auspicabilmente a successo, perché poi sappiamo bene che la maggior parte delle start-up non ce la fanno, ma in realtà, come all'interno di un ecosistema, anche quelle che non ce la fanno, in realtà tornano ad arricchire l'ecosistema stesso, a dargli un valore come humus, come elementi secondari, non è detto che debbano diventare i pesci più grandi del lago. Gli ecosistemi, quindi il primo ecosistema della storia che si sia sviluppato spontaneamente poi per sostenere le start-up, sappiamo tutti che ormai è la leggendaria Silicon Valley, ma a metà degli anni 90 ci sono stati gli israeliani che hanno cercato di capire per quale motivo in Silicon Valley succedessero tutte queste cose che non succedevano in altri luoghi e hanno studiato e hanno decodificato il modo in cui effettivamente funzionava l'ecosistema, questo cluster, questo di grande distretto di innovazione che era la Bay Area, la zona intorno a San Francisco e hanno mappato 5 elementi fondamentali, 5 colonne portanti degli ecosistemi e tanto l'hanno mappati bene che sono riusciti a duplicarli, Israele ormai è nota in tutto il mondo come una start-up nation, in realtà poi dopo copiando Israele sono nati gli ecosistemi di innovazione di Londra, di Berlino, di Parigi, l'Italia stessa sta tentando di copiare il modello decodificato da quello che è stato lo studio degli israeliani e gli ingredienti fondamentali, queste colonne degli ecosistemi start-up che le supportano fondamentalmente sono cinque, sono il talento, la cultura, la densità, l'accesso ai capitali e la cornice legale. Partendo dall'ultimo punto, la cornice legale per quanto noi crediamo che l'Italia sia un posto con una giurisprudenza, una burocrazia avversa all'impresa, in realtà non siamo un luogo più avverso all'impresa di Spagna, Germania, Francia, Israele stessa, cioè luoghi dove comunque le start-up innovative riescono a fiorire, riescono a avere successo e riescono a diventare anche molto grandi. Quindi siamo un po' noi in realtà che ci flagelliamo da soli a pensare che le cose siano particolarmente avverse, in realtà non sono più complesse che altrove. L'accesso ai capitali è un punto che è un po' più legato alla cultura, perché in realtà i capitali in Italia ci sono, per quanto poi pure qui parliamo tanto di crisi, di economia che non cresce, di redditi basi, l'Italia è un paese ricco, siamo il secondo paese al mondo per reddito pro capite dopo il Giappone, quindi la ricchezza privata di questo paese c'è ed enorme e in realtà non vede l'ora di trovare opportunità di valorizzazione attraverso l'investimento. La densità, ecco questo è un punto importante, siamo il paese dei campanili, tendiamo a disperdere un po' tutto, quindi il fatto che quando si è cominciato nel 2010 a parlare di ecosistema startup in Italia, in realtà un po' tutti hanno cercato di crearsi l'ecosistemino sotto casa, in realtà ha rallentato molto la costruzione del sistema. Se si fosse deciso dall'inizio di accentrare tutto in un unico luogo, gli investitori, gli acceleratori, gli incubatori, i fondi di venture capital, creando un big bang, magari oggi avremmo tanti luoghi molto più ricchi e molto più di valore perché saremmo partiti da una concentrazione per poi far fiorire tante altre località secondarie, come è successo negli Stati Uniti, dove non è che è tutto in Silicon Valley, ormai i distretti, gli ecosistemi di innovazione negli Stati Uniti sono decine dopo che la Silicon Valley si è sviluppata tanto da diventare abbastanza grande, da gemmare nuovi ecosistemi. Il talento, ne siamo ricchissimi, ne parliamo, lo diciamo, lo leggiamo su tutti i giornali, esportiamo cervelli, esportiamo laureati brillanti, esportiamo gente che ha voglia di lavorare, vanno all'estero, vanno in luoghi più favorevoli per lavorare delle volte, o molto spesso per fare i fondatori di start-up in ecosistemi più favorevoli. Il nostro grandissimo buco è la cultura, proprio perché noi abbiamo una cultura avversa per molti elementi intorno a quello che è il modello delle start-up, a quello che sono. La nostra cultura dell'impresa è quella dell'impresa padronale, della piccola impresa, del piccolo e bello, che nasce anche da quella che era la cultura contadina di un tempo, l'economia agricola dei piccoli orti, avversa a quelle che sono state le grandi industrializzazioni e i grandi latifondi produttivi. Quindi noi arriviamo da una cultura che ci tramandiamo generazionalmente, che in realtà va abbastanza contro. E proprio affrontare con un po' di pillole oggi quali sono le frizioni principali, cioè le credenze sbagliate intorno al modello delle start-up e del venture investing, quindi come si costruisce un'impresa che può diventare un gigante, che può diventare, non voglio dire, la nuova scoperta dell'America, ma la prossima Google, la prossima Meta, la prossima Apple, la prossima Tesla, la prossima per un esempio moderno e recente, BioNTech, che è l'azienda sviluppata, la start-up biotecnologica che in Germania ha reso possibili vaccini mRNA che ci hanno portato fuori dalla tragedia della pandemia. Era una start-up esattamente come quelle digitali. Quindi bisogna andare a comprendere quali sono gli elementi su cui ci sono delle convinzioni generali, quello che si chiama il common understanding, che sono opposte a quello che è il modello delle start-up. La prima è una start-up non parte da un'idea, non esiste il concetto del ho avuto un'idea geniale, cerco solo chi mi dia un sacco di soldi per assumere la gente a realizzarla. È una leggenda metropolitana questa, è una credenza profondamente sbagliata. Non esistono idee geniali, esistono eccellenti esecuzioni. Le idee sono una commodity, sono qualche cosa di comune. Sto avendo un'idea io che probabilmente stanno avendo altre mille persone nello stesso momento nel mondo e probabilmente altre centomila l'hanno avuta in passato. Il punto è essere in grado di realizzarle le idee, perché i capitali arrivano progressivamente attraverso step, passi successivi e crescenti di un piano di realizzazione di quell'idea, trasformandola in valore attraverso il talento, attraverso il lavoro. Quindi è fondamentale. Non esistono idee geniali che vengono coperte di soldi, neanche in Silicon Valley. Un elemento centrale di come deve essere una start-up non è una nuova impresa, non è una nuova azienda, non è azienda che cresce e deve fare utili. È una nuova azienda o un progetto di azienda che deve avere tutti questi elementi, ma ne deve avere uno di cui non si parla mai, perlomeno in Italia, che è la scalabilità. La scalabilità significa che il modello di business, il modo in cui si sta creando valore, in cui si sta creando marginalità, cresce in modo più che proporzionale, via via, che si allarga sul mercato. Quindi significa che i ricavi della propria azienda crescono molto di più di quanto crescono i costi. Le aziende normali, tradizionali a cui siamo abituati noi, sono definite aziende lineari, perché è vero che possono crescere, possono crescere tantissimo. Un ristorante può diventare una catena di ristoranti e aprirne mille nel mondo. È un'azienda che cresce. Non sarà mai un'azienda che attirerà capitale di rischio professionale, perché il capitale di rischio, che è quello che detta le regole su cosa è una startup e come possa arrivare veramente a successo attraverso i vari gradi di finanziamento, si basa sulla scalabilità del modello di business. Cioè più si va avanti, più si investe, più si raggiunge mercato, più il margine di profitto, il rapporto tra i ricavi e i costi è crescente. Il venture capital non finanzia aziende lineari, finanzia solo ed esclusivamente aziende scalabili. Quindi questo è un errore comune, io ne sento continuamente, io faccio l'imprenditore ma faccio anche l'investitore. Mi arriva in continuazione gente che mi propone progetti che chiama di start-up, ma che sono solo degli avvi di azienda, ma di azienda tradizionale, lineare, non sono scalabili, quindi non sono investibili, perché il rapporto di possibile ricavo del mio investimento, il rapporto al rischio che io vado a sostenere, è insostenibile. Gli investitori professionali investono in cose che sono sì rischiose, ma in cui se va bene, perché una su cento ce la fa, per citare una canzone, in quel caso mi restituiscono un multiplo tale che mi fa recuperare anche tutte quelle in cui ho investito che sono andate male. Un altro elemento su cui molti sbagliano in Italia è quello del business plan, spesso forviati dai consulenti. Si pensa erroneamente che il punto di partenza di una start-up sia scrivere un business plan e a quel punto andare a cercare montagne di soldi per finanziare il passo d'impresa. Come ho detto prima, una start-up parte da piccoli passi di esecuzione, fa un passo in avanti, osserva siccome sta innovando, osserva dove è arrivata, osserva in quali condizioni c'è arrivata, cerca i soldi per fare il passo successivo, fa il passo successivo, cerca i soldi per fare ancora quello successivo. Quindi sono degli andamenti anche di raccolta di investimenti crescenti. Si fanno i round friends and family, quindi ci si autofinanzia nella primissima fase per provare a fare qualche analisi di mercato. Poi si va a fare i round che viene detto del pre-seed, con cui si parla con i primi investitori professionali, che spesso sono gli acceleratori, e si prende qualche decina di migliaia di euro, qualche decina di migliaia di euro che serve per fare un concept e per intervistare un'ampia audience di mercato, di utenti, per capire se comprerebbero una volta che si faccia il prodotto. Quando si verifica che ci sono tanti utenti che comprerebbero il prodotto o il servizio, si passa al round seed, che cominciano ad essere centinaia di migliaia di euro di investimento, con investitori che cominciano a diventare i primi piccoli fondi che sono dedicati alle fasi seed. Con quei soldi si fa un prototipo e si va davvero sul mercato e si verifica se tutte le proprie ipotesi sul modello di business funzionano. Solo a quel punto si arriva al famigerato venture capital, che non è mai il primo investitore. In realtà è l'investitore di quarto livello, perché prima si deve verificare che ci sia un team con delle competenze in grado di realizzare l'azienda, si deve verificare che ci sia un mercato che comprerebbe un servizio, si deve verificare che c'è un prototipo, si è stati in grado di fare un prototipo e che c'è gente che lo compra e c'è un modello di business sostenibile. Allora si arriva dal venture capital, perché manca solo la benzina per cominciare a fare un progetto di crescita di questa impresa. Un'altra credenza sbagliatissima di questo paese, il modello del piccolo imprenditore, con il vecchio adagio che le società si fanno in un numero di soci minore di due e dispari, per dire che non bisogna avere soci. Le start-up sono geneticamente delle società non padronali, non esiste il socio di maggioranza, sono delle squadre, sono dei team, sono delle competenze che si mettono insieme, sono condivise dal primo momento, non esiste l'uomo solo al comando, esistono talenti che si mettono insieme, si mette insieme un tecnico, un marketer, un economista, hanno insieme tutte le competenze per tentare di fare una cosa mai fatta prima. Ma non è neanche poi così lineare, perché poi in realtà andando avanti si imbarcano altre persone, si imbarcano altri talenti, si imbarcano i primi dipendenti, si imbarcano gli investitori. Quindi la realtà è che alla fine di un progetto di start-up, se anche va a successo, in realtà i fondatori tipicamente forse ne possiedono ancora il 20% dell'azienda, perché tutto il resto lo hanno condiviso con gli investitori, con i consiglieri, con i dipendenti. Si dice in Silicon Valley che la vera missione del CEO, dell'amministratore delegato di una start-up, è rendere ricca la segretaria che sta al desco dell'ingresso, perché il piano di stock option deve far sì che chiunque stia lavorando in quell'azienda sia partecipe del successo dell'azienda, perché è solo così che delle imprese innovative riescono ad arrivare veramente al successo. Ed è vero che non tutte arrivano al successo, come ho detto prima, una su cento ce la fa. È anche vero però che quando si arriva a quella una su cento, qui va sfatato un altro mito. La start-up non è un'azienda che ci si tiene per la vita, salvo rarissime occasioni in cui si diventa degli outperformers, in cui si diventa Facebook e ci si quota in borsa. Perché? Perché cominciare a tirare a bordo degli investitori professionali significa fare un patto dal primo minuto e che gli si consentirà a un certo punto del percorso, arrivati al successo, di vendere tutto quanto perché loro si devono riprendere i soldi che hanno investito moltiplicati tante volte. Quindi quando si riesce a quotarsi in borsa perché si è diventato il leader del mercato mondiale in cui si è entrati, magari i fondatori rimangono anche nell'azionariato e continuano a gestire l'azienda, ma è un'eccezione. Tipicamente la fine del progetto del percorso di una start-up è quello di una cessione a tutti, una cessione di tutto da parte di tutti. Ma questo continua ad essere un grande valore perché i fondatori di start-up sono dei soggetti che non solo dopo aver avuto anche il successo ci riprovano o quelli che hanno avuto in successo ci riprovano, ma soprattutto diventano i soggetti che investono sempre, che si rimettono a rimettere insieme i pezzi dell'esperienza che è terminata, che è andata in cocci, sia che sia andata bene, sia che sia andata male e provano a reincollarli in un altro modo per generare nuovo valore. E il più delle volte si rimettono a generare questo nuovo valore reinvestendo dal territorio da cui sono partiti. Quindi in qualunque territorio viviate, sostenete i vostri imprenditori e sostenete le vostre start-up.